Dopo le primarie del centro-sinistra che hanno visto la partecipazione del capogruppo in regione Antonino Pipitone, Italia dei Valori si organizza per presentare una propria lista per Palazzo Balbi nel 2015. Pur ringraziando il mio amico e collega per il lavoro che ha fatto, interviene il consigliere Gennaro Marotto dopo un'intervista di Pipitone a Rete Veneta, tengo a sottolineare l'importanza del risultato per il partito. Ciò a significare che qualsiasi ipotesi di presentazione di nostri candidati in liste civiche o del presidente è senz'altro da escludersi, soprattutto per quanto riguarda i nostri principali rappresentanti istituzionali, come appunto Pipitone. L'esponente veneziano di IDV è stato tra gli estensori di una proposta di legge nazionale presentata in Consiglio regionale sul tema caldo dei vitalizi agli ex consiglieri che il partito, fondato da Di Pietro, intende mettere al centro della propria campagna elettorale. Noi proponiamo il divieto di cumulo di pensioni da politica. Cioè una persona che ha fatto politica e magari è stato senatore, poi consigliere regionale, magari anche europarlamentare oggi può prendere tre pensioni da politica. Questo non può più essere possibile. Dobbiamo limitarlo se non eliminarlo e questo lo chiederemo tramite una proposta di legge statale che faremo a questo Consiglio regionale. L'immagine degli ex consiglieri che difendono i propri vitalizi dal contributo di solidarietà sembra provenire da un'altra epoca, Chiosa Marotta, commentando la recente riunione di Milano. A queste persone il Consiglio regionale dovrebbe smettere di fornire sede gratuita, personale dedicato e utenze a carico della comunità. Il loro sodalizio dovrebbe essere trattato esattamente come tutte le altre migliaia di associazioni presenti in Veneto.